Ciao a tutti e benvenuti. Aedris Elba si prepara per combattere contro i dinosauri di Jurassic Park. Ve ne parlo dopo il video. Sono regine fedeli. Ehi, cosa vi succede? Ci siete rimasti male, non lo sapevate? Cos'è, siete diventati dei sentimentali? Tu Fabio, ti fidi ciecamente dei tuoi contatti, vero? Ti gratifichi, sei generoso. Quanto vorranno bene al nostro Fabio e le sue regine? I regali vanno fatti con criterio. Sai a cosa mi riferisco? La regola dell'undici, Giorgia. Un regalo deve fruttare l'azienda undici volte quello che è costato. Quindi, se sganci un computer portatile da duemila euro, deve fruttarne almeno... 22.000. E tu faresti un regalo del genere ad uno di primo pelo, con un giro piccolo a cui stai consigliando, che so, un prodotto che costa 5 euro? No. Probabilmente no. Cosa gli regalesti? Un telefonino. Lo inviterei a pranzo fuori. E allora, cosa ti sta succedendo, Fabio? Ti sei affezionato troppo a qualche regina? No. Ti stai stancando, hai bisogno di riposo? No, non sono stanco. Le cose stanno migliorando. No, io infatti l'ho detto ai miei capi che le cose stanno migliorando, ma a me non danno più fiducia, perché non vai a dirglielo tu, vai a dirglielo tu. Vai a dirglielo tu! Le riprese di Jurassic World sono sempre più vicine, e non è stato ancora ufficializzato l'intero cast di questo nuovo capitolo della saga di Jurassic Park. I primi due nomi non hanno proprio entusiasmato i fan, probabilmente perché si trattava di due giovani attori poco conosciuti alle masse, cioè Ty Simpkins e Nick Robinson. Per adesso è solo un rumore, però pare che l'attore Idris Elba, conosciuto per i suoi ruoli in Thor, Pacific Rim, Prometheus, e nell'imminente biopic su Mandela, sarà la star del sequel. Tutto da confermare, però il suo nome era uscito l'anno scorso, quando il progetto si chiamava ancora Jurassic Park 4. Facile ammettere che sarebbe perfetto per qualsiasi parte, Spielberg e il regista Colin Trevorrow possono avere in mente per lui. Le riprese in 3D di Jurassic World cominceranno a breve, nei primi mesi del 2014, in modo da rispettare la data già fissata per il 12 giugno 2015, la data di uscita naturalmente. E questa era la notizia di oggi. Ricordatevi di visitare il nostro sito filmisnow.com per tutte le notizie. Ciao e al prossimo video.